Io sono abituato a stare sul pezzo, a incalzare continuamente e costantemente le istituzioni che hanno delle responsabilità, il ministro per le infrastrutture e quindi anche per le ferrovie, c'è questo studio di fattibilità, abbiamo chiesto di allargarlo alla vallata del Foglia che è una vallata insieme a quella del Metauro che detiene un buon 80% dell'economia della provincia di Pesaro Urbino e se lo studio di fattibilità allargato alla valle del Foglia, cioè Pesaro, Fano, Fossombrone, Urbino, Montecchio, Pesaro ha una valenza economica perché secondo me può avere una valenza economica e perché no non passare alla realizzazione di un tratto ferroviario tipo metropolitana di superficie leggera che fa il trasporto dei passeggeri ma fa anche il trasporto delle merci, penso alle scolaresche, penso all'attività economica e produttiva così importante, riassumibile in queste due vallate, quindi ci crediamo, ci crediamo molto, vogliamo sapere a che punto è lo studio, che tempi ha e se possiamo competere con i finanziamenti dello Stato nazionale e i finanziamenti europei già programmati per i prossimi anni. La città di Vallefoglia, come si sa, ha una delle più grandi vivacità economiche della provincia di Pesaro Urbino e del nord delle Marche, ci sono circa 50.000 metri di capannone in corso, fra Rivacol, Vetrotec, Italservice e tutte queste attività, diciamo la fab, aziende e fabbriche che vanno bene, che sono in crescita, che fanno fatturato e per noi è un biglietto da visita molto importante. Siamo una città del mondo oramai perché sono tante le nazionalità che sono dall'Europa e da altri paesi anche fuori dall'Europa che vengono a Vallefoglia perché si possa trovare lavoro, crescita, sviluppo, occupazione e benessere. Quindi puntiamo molto sulla crescita, sulla qualità dello sviluppo, sulla sostenibilità. Non è un caso che sosteniamo la mobilità su ferrovia perché riduciamo l'inquinamento, riduciamo la pericolosità di tante macchine che vengono utilizzate per andare a lavorare, ogni persona utilizza una macchina perché no, il treno, l'autobus, pensiamo che sia nella logica della sostenibilità dello sviluppo europeo.